Quanti soldi hanno trovato? Sì, signor ministro, abbiamo un eroe per le mani. Dobbiamo approfittarli. Ripeta, non ho avuto alcuna esitazione a chiamare la polizia. No, no. Non... È chiaramente uno sprovveduto. Devo prendere il suo orologio. Glielo ridarò più tardi, non si preoccupi. Le doniamo questo orologio come premio per la sua onestà. Quando ci pagherete gli sti... sti... stipendi? La gente lo adora. Su internet ne parlano tutti. Complimenti, capo. Grazie mille. Non è il mio orologio. Sul mio c'è scritto a mio figlio Zanko. Dov'è il suo orologio? Perché non gli chiedi scusa? Non ho niente di cui scusarmi. Me ne sto occupando, signor ministro. Se non parli, vinceranno loro. Mi hanno tolto l'orologio di mio padre e la dignità. Vuole dei soldi? Ma non si vergogna. Non una parola di più. Stai esagerando. Stai di là! Chiedi scusa al ministro e andrà tutto bene. Chiedi scusa al ministro e andrà tutto bene. Chiedi scusa al ministro e andrà tutto bene.